C.D. Capuccini TV, pace e bene. Ci troviamo in compagnia di Claudia Cole, che in questi giorni si trova qui a Cagliari per raccontare quella che è la sua esperienza, quella che è la sua conversione e per dare la sua testimonianza. Ciao Claudia. Ciao. Sono un po' emozionato. Noi volevamo chiederti, penso che ormai tutti te l'abbiano chiesto, come ha avuto origine la tua conversione, dove hai incontrato Dio nella tua vita? Io l'ho incontrato in un momento di grande sofferenza, però io mi sento una figlia del Giubileo, una figlia della misericordia di Dio, perché passai la Porta Santa a San Pietro nel 2000, accompagnando un'amica, perché non ero una cristiana praticante, e da quel momento si sono messe in moto delle situazioni che hanno piano piano risvegliato la mia coscienza, in cui sono cominciata a diventare consapevole delle mie mancanze, delle mie miserie, delle mie debolezze. E quando ho toccato proprio il fondo, in questa consapevolezza della mia debolezza, ho gridato a Dio, ho chiesto aiuto e il Signore si è manifestato. Quindi diciamo che è stato un percorso che ha preso origine da quel passaggio nel 2000 della Porta Santa. Ho capito. Ecco, in che modo è cambiata la tua vita? Beh, radicalmente. Con una consapevolezza che non c'è bene al di fuori di Dio. Quindi non nessuno può sostituirlo più nella mia vita. Io posso continuare a sbagliare, a cadere, a peccare, perché sono comunque nella mia umanità fragile. Però nessuno mi può più togliere questa consapevolezza, che la vita ha senso solo quando si è in comunione con Dio. E quindi fare quello che dice il Signore è per me il modo per ringraziarlo e per stare più vicino a Lui. Non è quindi il cristianesimo una serie di norme da seguire. Il cristianesimo è incontrare Cristo e lasciarsi amare da Lui. E Lui poi ti porta al Padre per mezzo dello Spirito. E quindi entri in una comunione d'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quindi è la bellezza della Trinità. Ecco, appunto, l'incontro, penso che l'incontro fondamentale con Cristo in ognuno di noi avviene attraverso la preghiera. Come vivi tu la preghiera? Cosa è per te la preghiera? Ma prima di venire qui parlavo proprio di questo. Cioè io ho incontrato il Signore pregando, pregando il Padre nostro. Quando sono stata attaccata dal maligno, quindi in una situazione in cui ho sperimentato che solo Dio salva. Io avevo tanti soldi, avevo un discreto successo, tanti amici importanti. E quindi ho sperimentato che tutto questo non mi salvava. Di fronte allo scontro con il male, solo Dio salva. Ecco perché quando io incontro persone che soffrono, dico pregate. Perché la preghiera ci libera dal male e ci mette in comunione con il Signore. Ecco io ero in peccato mortale allora, era una persona che non praticava la Chiesa, aveva un vissuto molto, molto travagliato. E in quel momento in cui ho gridato a Dio pregando il Padre nostro, Lui mi ha liberato dal maligno e mi ha avvolto con la pace. Cioè mi ha calmato con la sua pace. Ed è interessante che Gesù misericordioso, nel messaggio che lascia tutta l'umanità sofferente, dica l'umanità non troverà pace finché non confiderà nella mia misericordia. Quindi diciamo la pace è un dono di Dio, che ci viene dato per misericordia. E bisogna pregarla la misericordia di Dio. Ecco perché io diffondo sempre la preghiera tramite delle immaginette che distribuisco durante le testimonianze. La preghiera della coroncina, della divina misericordia. Primo perché io l'ho sperimentata in prima persona, in quanto nella mia stanza quel giorno io pregai il Padre nostro stringendo fra le mani un crocifisso, chiedendo aiuto a Dio e Dio Padre che me l'ha concesso per misericordia. Quindi nella coroncina noi preghiamo la misericordia di Dio, chiediamo al Padre misericordia per i meriti della passione e morte di Cristo. E quindi per quel crocifisso, oltretutto di San Damiano, che io stringevo fra le mani. E quindi oggi so che devo tutto a Gesù, perché Lui ha pagato per i miei peccati. E so che bisogna pregare la misericordia di Dio quando le cose non vanno bene, anche quando si è tentati dal maligno. Mi hanno detto, un esorcista mi ha detto che è avvenuta una liberazione proprio mentre si pregava la coroncina della divina misericordia. Quindi confidare sempre nella misericordia di Dio e pregarla per noi e per il mondo intero. E poi come diceva Padre Pio, l'altra arma è appunto il rosario, mettersi sotto la protezione di Maria, l'Immacolata. E ho avuto due maestri di preghiera. Il Signore ha voluto che io crescessi nella preghiera, nelle opere di carità, ma anche nella preghiera. Cioè questi due polmoni, la preghiera e la carità. I due maestri di preghiera sono stati Padre Gasparino, che stava a Cuneo, che è un fautore dell'adorazione perpetua. E quindi il Signore mi ha insegnato a pregare davanti al Santissimo, a consegnare tutto a Lui. Cioè sono innamorata della Santa Messa quotidiana e del Santissimo, quindi dell'adorazione eucaristica. E l'altra, diciamo, maestra spirituale è stata Suor Maria Pia Giudici, una salesiana, che ha un eremo a Subbiaco di preghiera. Quindi anche i salesiani hanno il loro ramo della preghiera con questa suora che ha voluto far nascere, diciamo, un luogo di preghiera. La contemplazione non sono suore di clausura, ma sono comunque suore di vita attiva, che però pregano, che danno alla preghiera il ruolo principale. E anche lei, fautrice dell'adorazione eucaristica e soprattutto dell'amore alla parola di Dio. Quindi ecco perché anche noi preghiamo la coroncina della misericordia, meditando la parola di Dio. Cioè Gesù al centro, la parola e l'eucaristia. Allora, tu prima parlavi della tua vita di donna comunque dello spettacolo, avevi amicizie, diciamo, importanti. Con la tua conversione, con questo cambiamento di vita, hai avuto modo di trattenere questi rapporti con questi tuoi ex colleghi, diciamo? Oppure sono cambiati i rapporti anche con loro? Io insegno in un'accademia di spettacolo, che dirigo anche. Quindi, diciamo, il mondo dello spettacolo non è che l'ho abbandonato. Quindi quando è possibile, coinvolgo anche i miei colleghi in questo progetto sul mondo dello spettacolo, formare giovani artisti che entrano poi nel mondo dello spettacolo con anche una formazione cristiana. Quindi, diciamo che oggi io mi relaziono con i miei colleghi forse chiedendogli qualcosa in più rispetto a prima. Una collaborazione per accogliere fondi per le missioni, la loro presenza negli spettacoli dei miei ragazzi, per sostenerli in questo percorso di formazione e poi di entrata nel mondo dello spettacolo. E questo è anche un modo per me, per anche fargli comprendere che Gesù non ti strappa da quello che può essere, diciamo, il tuo mestiere, il tuo, diciamo, le tue capacità artistiche, il tuo talento. Ma anzi, il tuo talento risplende ancora di più quando c'è la presenza dello Spirito di Dio nella tua vita, perché è uno spirito sapiente e quindi lo illumina il tuo talento. E quindi è un modo indiretto di fargli vedere che si può essere degli artisti che credono, degli artisti cristiani, senza perdere il talento artistico. Perché è un po' il gioco che hanno fatto i giornali con me. È stato quello di, come dire, che perdevo qualche cosa incontrando Gesù, no? Perdevo bellezza, perdevo lavoro, perdevo, no? Era come dire che si era intristita la mia vita, invece la mia vita si è illuminata. E più io mi metto in gioco nella vita oggi, e più il Signore mi dà la vita. Quindi incontrare Gesù vuol dire acquistare vita, non perderla. E anche ai miei colleghi io cerco di, quando parlo, per esempio ho fatto una telefonata con Gianni Morandi qualche tempo fa, credo due mesi fa più o meno, e Gianni mi chiedeva, ma che cosa fai? Voleva sapere di me, voleva capire che cosa aveva voluto dire per me questo cambiamento di vita. Cioè, gli artisti si interrogano, perché soprattutto quelli che mi conoscevano prima e mi guardano oggi, qualche cosa si domandano dentro, per forza. E io, quando li incontro, non è che li catechizzo, ma li voglio far capire indirettamente, anche attraverso quello che facciamo insieme, che stare con Gesù è bello. Senti, tu parlavi della missione. Sappiamo che sei molto impegnata in un progetto che riguarda l'Africa. Brevemente ci puoi raccontare qualcosa? Sì, è nata un'associazione dedicata a Dio Padre, che si chiama Le Opere del Padre. E sono le opere che il Padre ha predisposto che noi praticassimo, quindi per rendergli gloria. E quindi sono le opere di misericordia. Cerchiamo di aiutare le persone in difficoltà, gli ammalati, i sofferenti. In particolare in Africa, nei paesi più poveri. Io sono stata portata lì la prima volta dai salesiani e quindi ho cominciato a innamorarmi dei poveri con i salesiani. E quindi da lì è generato in me un desiderio di aiutare. Con le opere del Padre stiamo costruendo un centro di riabilitazione per i disabili, ma anche una struttura ospedaliera per i poveri, che si chiama La Piccola Lourde, dedicata a Maria. Perché quando abbiamo preso il terreno, in Burundi questa in Gozzi, visitandolo la prima volta, abbiamo trovato con il Vescovo un rosario a terra. E allora abbiamo detto che questo terreno è dedicato a Maria, appartiene a Maria. E siccome è un centro per disabili e ha bisogno della palestra, ma anche della piscina, perché l'acqua calda scioglie le tensioni muscolari, abbiamo pensato all'Urd e abbiamo detto che questo centro possa lenire la sofferenza di tante persone e accendere anche la fiammella della fede in tanti cuori. E quindi l'abbiamo dedicato all'Immacolata. Appunto parlando della Vergine Santissima, volevo chiederti, sappiamo che hai una particolare devozione verso la Vergine Maria, la Nostra Signora di Pompei. Come mai? Perché mia mamma, quando sono nata, pensando di morire perché stava molto male nel letto, mi affidò a Maria e disse, se non la posso crescere io, pensaci tu. E quando poi invece si alzò da quel letto, dopo sei mesi, anche se molto, diciamo, fisicamente provata, appena fu possibile mi portarono a Pompei. E mia mamma mi, ecco, mi affidò proprio alla Madonna. Il mio secondo nome è Maria Rosaria. Però io anche so che Maria è la creatura più bella di Dio, no? È la creatura prediletta. E quindi, come ci si può mettere sotto la sua protezione, alla sua scuola? Dio è innamorato di Maria. E quindi, se noi vogliamo essere dei veri figli di Dio, non possiamo non amarla e non metterci sotto la sua protezione, sotto la sua preghiera, no? Perché lei intercede per noi. Ecco, io ti ringrazio. Non voglio rubarti altro tempo perché so che anche questo pomeriggio hai un'agenda piena, ritta. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Noi di Capuccini TV ti facciamo un augurio per il tuo cammino, affinché possa essere illuminato appunto dalla Vergine Maria e che ti possa fare indicare la strada. Ciao Claudia, pace e bene. Pace e bene, pace e bene anche a voi. Pace e bene, pace e bene. Pace e bene, pace e bene, pace e bene. Grazie a tutti.